Benvenuti nel cuore di News Mix Up. Prima di svelarvi gli avvenimenti di oggi, chiediamo il vostro sostegno, un semplice gesto, un mi piace a questo video e l'iscrizione al nostro canale rappresentano per noi un segno di importanza immenso. Grazie di cuore. Sophia Loren ha fatto il suo ingresso nel mondo dell'arte fin dalla giovane età, ottenendo riconoscimenti nei primi anni 50. Il suo talento è emerso grazie alle sue interpretazioni in film comici come Pane, Amore e… e in pellicole nel tipico stile hollywoodiano, come Un marito per Cinzia nel 1960, diretta da Vittorio De Sica, e La Ciociara, ruolo che le ha valso il primo premio Oscar mai assegnato a un'attrice italiana. Nel 1991 le è stato conferito l'Oscar onorario. Tra i suoi film più celebri che hanno segnato la storia del cinema italiano si annoverano Una giornata particolare, ieri, oggi, domani e Matrimonio all'italiana. Dopo un momento di riflessione, in una recente intervista, ha condiviso le sue parole sulla recente scomparsa di Gina Lollobrigida, avvenuta poco tempo fa all'età di 95 anni. Loren ha dichiarato, «Ero profondamente addolorata e non riuscivo a trovare le parole. Cara Gina, il tuo corpo si è spento, ma la luce della tua stella continuerà a brillare su di noi e nei nostri cuori per sempre». Queste parole dissipano ogni dubbio su una presunta rivalità tra le due attrici e dimostrano il suo affetto e rispetto per Gina Lollobrigida. Sofia Loren ha concluso il suo messaggio con queste parole ricordando quanto profonda sia ancora la ferita per la perdita di una grande artista. «Ciao Gina, ti pensiamo sempre. Spero che lassù starai bene».